Allora ragazzi ci siamo lasciati qua e adesso vediamo Abbi, puoi darmi una mano? È rotto! Aspetta, sei quella Lara? Lara Croft Allora Ti ho riconosciuta dalla volta Come mai ti interessa questo posto? Sto seguendo un enigma Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra I volti di pietra? Anch'io sono qui per quelli Non voglio che stagli i piedi È il 70.000 coppa che mi interessa Beh, posso dirti che quei volti sono qui da almeno 400 anni Secondo i documenti della biblioteca sono dei guardiani La leggenda narra che sorvegliano una cripta segreta Una cripta? Non siamo mai riusciti a trovarla Come immaginerai questa cosa fa impazzire i cercatori di tesori Ma se la famigerata Lara Croft E in gamba come dicono Sì, si trova dalle parti del cimitero È uno degli edifici più vecchi Non dimenticarti di me se trovi qualcosa Certamente, grazie Ok Allora Lara, hai trovato nulla? L'amica di Ebbia ha parlato di una cripta vicino alla biblioteca Ci vediamo allora L'amica di Ebbia Io probabilmente sarei andata alla missione a piedi A Johnny invece è bastato chiedere un passaggio a Debbie Speriamo di essere nel posto giusto E di trovare lo screen prima della Trinità Il terremoto ha colpito la raffineria e adesso c'è un vulcano Il prossimo cataclismo potrebbe colpire qui Risolviamo questa faccenda prima che la città faccia la fine di Cosmone Speriamo Molto bene Molto 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 bene Questo è un fucilone Questo è già potenziato Ok Allora Dobbiamo andare avanti Dunque 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 Ok Dunque 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 Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcuno ha pensato che questa rappresentazione della morte di Cristo andasse ravvivata un po'. È incredibile come le credenze di culture differenti possano aggiungere a compirsi nel tempo. Ok. 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 Ragazzi arrivo subito. è arrivata la macchina e devo scendere un attimo. Riprendiamo dopo. Ok. 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 Ok.